E' morto per soffocamento e questo è il primissimo risponso dell'autopsia eseguita ieri pomeriggi a Patti e disposta dalla procura sul corpo del 41enne Franco Giuffre, precipitato dal balcone al primo piano della sua abitazione nei pressi della chiesa del convento in pieno centro a Gioiosa Marea. Il medico legale ha scoperto residui di cibo che ostruivano l'esofago e che potrebbero essere alla base del decesso. In pratica, anche se adesso si attende la perizia definitiva che verrà presentata entro 90 giorni, Giuffre avrebbe mangiato qualcosa che gli sarebbe andato di traverso. Quindi si è spinto in balcone da dove poi è precipitato. Una ricostruzione che fuga ogni ipotesi di suicidio circolata nelle ore successive al decesso. Il cibo killer a questo punto sembra essere un panino che familiari ed investigatori hanno trovato sul tavolo della cucina. Franco Giuffre, residente in provincia di Salerno dove si era trasferito dopo il matrimonio, si trovava a Gioiosa Marea con la famiglia per trascorrere un periodo di vacanze. Secondo il racconto di alcuni testimoni, Giuffre, sposato e padre dei due figli, aveva trascorso la serata in un agriturismo ed era rincasato intorno all'una e mezza. Poco dopo le quattro e mezza si sarebbe alzato per andare in cucina dove a quanto pare avrebbe preparato il panino. Quindi il soffocamento e la caduta fatale da un'altezza di circa cinque metri.